Buonasera, anche oggi, 20 novembre 2012, andiamo avanti con il nostro diario Ciorgaliero. E andiamo avanti, questo è Zappi, che sono il loro conduttore, potrai due fare radio 1, non ricordo, vedremo se anche qui ci sarà il momentico che dice, il messaggio che dice corrispondenza con contenuti in terza parte, da oggi vi prometto da ex radiologo, da ex DJ di fare un filmino un giorno per percorrere la mia vita, sempre su quest'autostrada salendo Reggio Caracchia. Da qualche giorno si toccherà andare al nord, a un altro lungo viaggio, fare qualche altro filmino, per oggi siamo qui sull'autostrada, come sempre a rasuolo, per dire a rasoio 140 di velocità di crociera, la percorribilità di questa autostrada è sempre la solita, sentiamo il TG. Prego, avvicina a casa, incessante il fuoco potrebbe essere annunciato a breve, e entrare in vitore dalla mezzanotte locale. Altri indagati per il sequestro Spinelli, il fessere di Berlusconi nega il pagamento di un riscatto, provocato che di di parla di ricostruzioni assurde, da abutati in molti tracci del bilancio finale della visita, per il corso, siamo una fonte apprezzata, sulla Europa e Medio Oriente, arrivare nelle redditi test, per verificare compatibilità tra spese e redditi, un milione di famiglie dichiarano fermo, dice l'agenzia dell'entrata e che non è fermo, sentiamo anche il TG4. Le solite cassate. Cifre shock per l'Ins, 7 milioni di pensionati sono obbligati a vivere con un ucino di 2 euro a mese, 16 su 100, arriviamo a 500 euro, la crisi economica, medie in gilotte, legati con me e poi li abbiamo interessato, una pensionata che ho capito a quali difficoltà e non strettamente a vedere, ma c'è un'altra faccia della medaglia, un 3% che dice che si sono trattamenti di 2 euro, ma un paio di oggi alla indichestero, non vedo mai da te per verificare sempre, anche spese da miliardi, sei informativi di quegli standard stabiliti nell'agenzia dell'entrata, direttamente la spiega aiuterà a quali di mazioni di un milione di famiglie, rispette, ma non devo usare un reddito, alla camera passi avanti per l'approvazione della legge di stabilità, ma il verbo chiede per il governo di pensione Ahi ecco qui, il 13, l'ennesima interruzione della sala del Moreggio Raggiunto un accordo per la tregua tra Israele e Hamas, l'annuncio da poco al Cairo in vigore della mezzanotte, un bilancio di 130 morti, ci sarebbero altri indagati per il sequestro anopalo del tesoriere di Berlusconi, si indaga sui punti in Svizzera, Spinelli smentisce trattativa e riscattiva, aumentano i candidati alle primarie del BDL ma anche le polemiche la Mussolini parla di resa dei punti, Samorini circobanno, Frattini ospite Sv3 E chi se ne frega aggiungeremo noi Sì, seguiamo, seguiamo l'evoluzione di Israele 2.0 800 05 5101 saluto i nostri primi ospiti che sono Francesco Losardo di Europa e Claudio Cerasa del Foglio, buonasera ad entrambi Buonasera Allora arriviamo ormai, mancano pochissimi giorni alle primarie del centro di vista, si vota il 25 novembre, mentre quello del centro-destra, anzi devo dire, del BDL e sembrano fissate e ancora non c'è stato un comunicato ufficiale il 16 dicembre, poco meno di un mese dopo Cominciamo quindi con quelle più prossime, lo chiederei a Claudio Cerasa perché volevo un po' vedere che cosa sta succedendo mi sembra che su entrambi i fronti, anche se sul fronte del centro-sinistra le cose ormai sono più consolidate ci sono stati, diciamo, impatti di intellezione ne sappiamo molto di più, c'è una situazione certamente più stabile mi prego anche sul fronte del centro-sinistra, nonostante il lungo procedere ci sono ancora molte polemiche vedo polemiche sui costi, polemiche sulle file, polemiche sulle regole a che punto so che ce l'ha se il primario del centro-sinistra il primario del centro-destra, il primario del centro-sinistra io faccio pubblicità gratuita al movimento per cui voto il primo nato d'Italia quello che fa capo al leader facciamo sempre pubblicità al Movimento 5 Stelle sperando che riusciamo ad andare al governo non parliamo quasi mai di politica, ma questo lo possiamo dire l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in alto cosenza non ha lo scavo siamo alle soli, come sempre questa autostrada ci meraviglia sempre di più adesso faremo un video al giorno ogni giorno un pezzo di 3-4 minuti di video è il momento che salutiamo e ci risentiamo domani ciao e grazie